L'amministrazione comunale di Nereto, quella guidata dal sindaco Lavorenzi, è arrivata al suo sesto mese di consigliatura. Insomma, a che primo periodo è stato, sindaco? Sono stati sei mesi molto impegnativi, per certi versi anche difficili. Siamo stati impegnati nell'organizzazione innanzitutto della macchina amministrativa e soprattutto in questo momento stiamo organizzando, appunto, per palesare questo lavoro fatto, un'assemblea pubblica con la cittadinanza, sabato 26 alle ore 17. Ecco, è il tempo anche di fare un piccolo bilancio di quello che è successo in questi sei mesi. Lei diceva che sono stati mesi difficili. Quali sono state le difficoltà maggiori? Innanzitutto capire in maniera chiara quelle che sono le disponibilità di bilancio, quindi delle risorse finanziarie a disposizione. Quello che è accaduto nel recente passato, ormai è chiaro a tutti, c'è stata comunque una gestione poco attenta da parte dell'ex responsabile dell'area finanziaria e rispetto a queste tematiche è chiaro che il nostro approccio sarà un approccio per il bilancio 2019 di natura, diciamo, prudenziale, osseguiosa di quella che è la normativa per l'approvazione, appunto, di un bilancio che proprio in questi giorni si sta decidendo se verrà, diciamo, spostato al 31 marzo, ma noi stiamo lavorando già per l'approvazione entro il 28 febbraio. Ecco, adesso invece per il futuro, insomma, che direzione prenderà l'amministrazione Lorenzi? Allora, sicuramente ci siamo posti degli obiettivi. Ripartire innanzitutto con i lavori di riqualificazione dell'area ex campo sportivo Romeo Mendi, proseguendo il lavoro della passata amministrazione. Noi porteremo avanti comunque lo studio di fattibilità approvato dalla precedente amministrazione. Particolare attenzione alle strutture scolastiche. Abbiamo approvato diverse progettazioni che riguardano numerosi edifici pubblici, appunto per la messa in sicurezza e la riqualificazione degli stessi. Vogliamo aprire un momento di, appunto, riflessione con la cittadinanza attraverso questa assemblea pubblica del 26 gennaio per rendicondare sei mesi di amministrazione, ma soprattutto per porci in ascolto laddove i cittadini ci segnaleranno delle priorità per la nostra comunità e per il nostro Paese.